Il Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Leila Montagnino, ha chiesto un sopralluogo sul tratto Imera della strada statale 640. Presente qui anche il Consiglio, almeno una parte del Consiglio, che risposte vi stanno dando? Risposte confortanti da un certo punto di vista perché quella data fatidica del 4 dicembre della riapertura dovrebbe essere confermata, anche se considerati i ritardi dovuti all'allerta meteo dicono che se non è il 4 è qualche giorno dopo. Io comunque ringrazio la CMC perché ci ha dato l'occasione di verificare lo stato dei lavori e soprattutto perché non è una cosa semplice, abbiamo visto veramente che è una grande opera per Caltanissetta per, speriamo, migliorare anche la mobilità dei Nisseni verso l'autostrada. Certo, i disagi ci sono stati, non possiamo che ammettere questo, però ormai siamo a conclusione e ci auguriamo che il tempo vada continui così come oggi e quindi possiamo finalmente riaprire questo tratto della bretella in modo tale da poter raggiungere velocemente lo svincolo per l'autostrada. Allora, sul tratto 640 i lavori procedono, come abbiamo visto, in maniera abbastanza puntuale e spediti. Ci sono alcune attività che sono rallentate dovute al cattivo tempo che c'è stato tra settembre e ottobre e queste hanno portato dei rallentamenti che stiamo cercando di recuperare in questi giorni. Questo è il primo lotto. Per quanto riguarda l'intera strada, che tempi si prevedono? 2016 come contrattualmente previsto. Quindi si prevede la consegna, se tutto va bene, anche il tempo per il 4 dicembre? Noi abbiamo schierato qui sul cantiere oltre 400 operai. Il numero di macchine operatrici non può essere oltre quello che abbiamo messo perché altrimenti ci si intasa. Abbiamo 3 chilometri su 4 pronti per l'asfalto, ma l'asfalto lo si passa tutto assieme. Arriverà purtroppo non da Caltanissetta come avevamo preventivato, ma da Catania. Questi sono ulteriori tempi. L'ultimo chilometro si sta preparando per la stabilizzazione, per poi mettere l'asfalto. Ci sono dei ritardi lì dovuti agli eventi meteorici di metà ottobre. 20, 21, 22, 3 giorni di fermo per l'allerta meteo e poi abbiamo avuto 8 giorni per riassorbire i danni fatti. Abbiamo recuperato, perché il cantiere lavora 24 ore su 24, abbiamo recuperato alcuni giorni secondo il programma che ci eravamo dati. Contiamo se resta questo tempo di riassorbire, ci sono 8 giorni di ritardo, 8 giorni lavorativi di ritardo, di riassorbire di tutti. Se non dovessimo arrivare al 4, credo che rimarrà al massimo 8 giorni di ritardo, non credo andremo oltre. Sicuramente sono Santa Barbara, ma io credo che speriamo di arrivarci, sarà Santa Lucia sostanzialmente. Prima diceva che giorni di ritardo sono un costo anche per noi. Inevitabilmente, per noi ogni giorno di cantiere in più non è che ci viene pagato in più. Ogni giorno è un costo che l'impresa si deve caricare, quindi siamo i primi ad avere un interesse ad ultimare il prima possibile i lavori.